Con Cristiana Paternò di Cinecittà News per presentare il film Il mio vicino Adolf di Leon Prudovski al cinema da giovedì 3 novembre 2022 distribuito da I Wonder Pictures. Bentrovata! Buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno a te. Raccontiamolo brevemente. Sì, molto brevemente. Tra l'altro è un film proprio di atmosfera e di duello, duetto tra due personaggi. Quindi in realtà di trama non ce l'è molta in questo caso. Ma c'è un uomo, un ebreo polacco che si è rifugiato in Sud America, vive in Sud America dopo aver attraversato la tragedia dell'Olocausto. Quindi un uomo anziano ferito dalla vita che vive in una casa isolata. C'è accanto un'altra villetta che viene presa in affitto da un tedesco, un suo coetaneo più o meno tedesco misterioso. E lui si convince sia un ex nazista, anzi si convince che sia Adolf Hitler. Cosa ti ha convinto e cosa meno di questo lavoro? È un bellissimo, come dicevo, duetto, duello tra due attori straordinari. L'ebreo polacco è David Heyman, che in realtà è un attore britannico. E il tedesco è Udo Kier, un attore tedesco molto importante, che ha un sguardo magnetico inquietante e che tiene un po' in piedi tutta la storia insieme a Heyman. Il film è molto buono, tra l'altro è stato presentato a Locarno, in Piazza Grande e mi fa molto piacere che esca al cinema perché è un film che poteva anche passare un po' inosservato. È una coproduzione, comunque il regista israeliano. Ci sono tanti, tanti film sui nazisti rifugiati in America Latina negli anni Sessanta, insomma dai ragazzi venuti dal Brasile a My Father di Egidio Ironico. È un po' un filone. Allora quando c'è un filone si rischia un po' la ripetizione. Ed era la cosa che temevo. In realtà è condotto bene questo racconto e anche ha poi un esito abbastanza inatteso. C'è questo umorismo ebraico così anche amaro perché poi insomma si parla di campi di Sormina, si parla di olocausto, il film è da vedere certamente. Conosciamo questo regista peraltro? Io personalmente non lo conoscevo. In realtà lui ha fatto diversi film, anche ha fatto documentari, cose televisive, serie. In Italia non è molto conosciuto, mi sembra che questa sia proprio la prima cosa che mi arriva qui. Ha vinto diversi premi però tutto molto in ambito internazionale ma non era arrivato da noi insomma. Quindi almeno per me è una scoperta. E che tu sappia ha avuto una circuitazione estera? È stato a diversi festival internazionali, a parte Locarno, è stato a Tallin, ad Hamburgo, in un altro festival in India, questo film qua. Quindi sì, un po' di ricolazione. Di visibilità c'è stata. Il film Il mio vicino Adolf, di Leon Prudovski, al cinema da giovedì 3 novembre 2022, distribuito da I Wonder Pictures. Un saluto e un ringraziamento a Cristiana Paterno, di Cinecittà News. Alla prossima! Grazie! Grazie!